Sindaco, si svolgerà dal 17 al 19 di gennaio a Cermignano la ventisesima edizione dell'Usan D'Andonia. Di cosa si tratta nello specifico? Allora, questa è una manifestazione, una delle più importanti che abbiamo qui all'interno del territorio. Questa è la ventisesima edizione e diciamo una rieditazione della vecchia, della situazione, ricerca culturale che è stata fatta negli anni per quando riguardavano i canti di questo, allegati naturalmente ai riti del santo protettore che è San D'Andonia, uno dei santi più amati della nostra regione. In queste serate, in queste tre serate ci saranno naturalmente gruppi folcloristici itineranti per le vie del borgo di Cermignano che naturalmente rappresenteranno anche attraverso rappresentazioni teatrali la storia del santo ma soprattutto anche attraverso le tentazioni a cui il santo era sottoposto. E in questa serata si ricordano un po', si ripercorrono in un'atmosfera veramente particolare, bella, con i fuochi su tutto il borgo che viene illuminato e nella stessa serata si possono degustare anche piatti tipici contadini dell'epoca di allora, gli famosi celletti che sono dolci caratteristici di questa rappresentazione. Ci sarà naturalmente anche una mostra fotografica che rappresenterà un po' il vissuto anche del nostro territorio e nello stesso tempo ci saranno anche carri allegorici, rappresentazioni, quindi diciamo che è una manifestazione che negli anni è andata sempre più dando forza al nostro territorio. Qui ringraziamo noi naturalmente anche tutti coloro che al Presidente Benito De Angelis che ha ideato e ha creato questa manifestazione. Ormai siamo alla ventisesima edizione, anche se è la ventisettesima, poi un anno diciamo che è saltata per problemi meteorologici. Ringraziamo anche il BIM per il patrocinio e il Comune di Cermignano che insieme naturalmente stanno facendo di questa manifestazione un importante richiamo a livello regionale che permette di dare lustro al nostro Paese e una manifestazione che negli anni permetterà anche di dare uno sfogo al nostro turismo di cui il nostro Paese e il nostro territorio ne ha tanto bisogno.